In questa puntata voglio trattare un argomento che ritengo estremamente importante, assieme alla dottoressa Bosio, trattando l'argomento dell'abuso sessuale. Ecco Maddalena, a te la parola, in modo che tu possa parlarci in modo esaustivo della sofferenza della persona abusata. Spero, spero di riuscirci. Dunque, l'abuso sessuale, in questo caso sui minori, stiamo parlando di abuso sessuale sui minori, è una trappola mortale per entrambi i protagonisti, sia per la vittima che per il suo abusante. E questo perché? Perché l'abuso è un'esperienza traumatica che crea un cortocircuito e quindi una specie di reiterazione. E questo cortocircuito si ripropone in occasioni della vita della vittima, sia su un piano sessuale e addirittura delle volte sui piani relazionali. Abbiamo visto nella prima parte della puntata come l'abusante circuisse le sue vittime, si avvicina in modo da poterle affascinare e in modo da poterle chiamare a sé. Sì, hai ragione. Questo mi dà l'opportunità di fare precedere il mio racconto su quello che è il dramma della vittima da una cosa un po' peculiare. Cioè io vorrei farvi ascoltare quello che io chiamo il pianto di preghiera sia della vittima che è del suo carnefice. Io dico pianto di preghiera perché in inglese si dice cry, no? The victim's cry. Cry è un verbo sostantivato perché implica proprio un pianto che è una preghiera. Il pianto della vittima è il seguente, dunque lo dico in inglese, please heal my wounds, che significa vi prego, aiutatemi a curare le mie ferite. Invece il pianto dell'abusante, the abusive cry, is please lead me out from walls that are not mine, che significa vi prego, conducetemi fuori da mondi che miei non sono. Con questo voglio cogliere l'occasione di rivolgermi agli ascoltatori e qualora tra il pubblico ci sia qualcuno che abbia vissuto o che stia vivendo esperienze di tipo abusante, vi pregherei di non cambiare canale, ma di rimanere sintonizzati con noi perché forse queste persone possono in questo momento cogliere l'occasione di ritrovare dei pezzi di se stessi che forse tanti anni prima hanno sepolto profondamente o hanno gettato lontani da sé perché pezzi della propria esistenza, del proprio vissuto in quel momento troppo drammatici, troppo difficili da gestire. Per cui sono stati buttati fuori del proprio io, solo che se da una parte questo meccanismo di difesa li salva, dall'altra parte purtroppo questi pezzi, come fantasmi, si ripropongono nella vita, però questa volta sotto veste di aggressore. E questo è il motivo per cui voi, aggressori, non siete in grado di mettervi nei panni di un bambino abusato, nella misura in cui questo bambino voi l'avete negato dentro di voi e ci riuscite solo nel momento in cui state abusando un bambino. È solo in quel momento lì che voi riuscite a incontrare quella parte dolorosa di voi che avete rinnegato. Per cui delle volte è inutile che un assistente sociale o una psicologa insista con una persona che viene accusata di molestia, di maltrattamenti o di abusi, si insiste nel chiedere di mettersi nei panni del bambino e di raccontare la storia di modo che tutto finisca rapidamente. E si trovano sempre un rifiuto, vuoi anche perché l'adulto accusato deve salvaguardarsi giuridicamente, ma anche perché in quel momento lì non è assolutamente in grado di mettersi nei panni di un bambino abusato, perché ci riesce soltanto nel momento in cui lo abusa. Tanto è vero che dopo l'abuso c'è una fase breve ma velocissima di depressione, poi i meccanismi si ripropongono e tutto ritorna come prima. Da questo punto di vista sappiamo che il meccanismo è compulsivo, quindi incontrollabile, poi sappiamo anche che molti degli abusanti a loro volta sono stati abusati. Quando tu parlavi di questo buttare via il loro essere bambino a me veniva in mente come tanti abusanti sono stati a loro volta abusati e la rottura è venuta in quel momento. Comunque vorrei cogliere questa occasione per dedicare a loro una poesia. Il dolore che ho dimenticato nell'animo sta bruciando, nelle oscure spiagge dei sogni. Il dolore che ha dimenticato la sua storia non ha parole, ma lunghi sospiri. Nelle tenebre di mezzanotte non c'è il canto degli uccelli, ma il triste trillo dei grilli. E' un canto cupo, cupo come l'angoscia di chi è stato abusato. E dell'abusante. E dell'abusante. Allora, detto questo entriamo dentro nello specifico argomento dell'abuso. Molte volte si chiede a un esperto se si riesce a individuare o riconoscere situazioni di abuso nella fase in cui il bambino o il minore la sta vivendo. Io purtroppo non ho una risposta da dare. Diciamo che io non sono in grado di dire e di spiegare quali potrebbero essere i comportamenti di un bambino reattivi che stanno segnalando che lui sta subendo un abuso. Questo perché? Perché i bambini di solito reagiscono sempre a situazioni conflittuali, a situazioni difficili della loro vita, a situazioni angoscianti. Per cui il bambino che è silenzioso, irrequietto, aggressivo, non riesce a stare fermo e cose del genere, è vero che sta denunciando un disagio, ma non è detto che quello sia il disagio che è racconti di una storia di molestia o di abuso. Certo. Il guaio è che l'adulto quando vede queste situazioni non si chiede che cosa sta succedendo al bambino, ma reagisce a queste situazioni anomale e quindi mettiamo a rincare le dosi di punizione o altre cose del genere. Per cui a quel punto lì il bambino si arrangia da solo, costruisce le sue difese, le inserisce dentro nel suo comportamento e tutto scompare. L'unica situazione in cui è abbastanza evidente che un bambino sta vivendo una situazione diciamo così di disagio su un piano sessuale è quando ci sono degli agiti che sono dei comportamenti sessualizzati. Ad esempio, non so, la bambina che tira su le gonne oppure abbassa le mutandine e si tocca anche i genitali o che tira giù i pantaloni di un bambino e dice delle cose che hanno a che fare con la sessualità. Oppure, non so, questa bimba di tre anni che diceva a sua mamma, mamma il pesciolino di il papà mi fa male quando mi lava qui. Questi sono segnali molto evidenti di disagi e nonostante ciò molte volte il genitore non ci crede e questo è abbastanza frequente perché dover affrontare situazioni così difficili, così dirompenti e pensando a tutto quello che può succedere dopo purtroppo frena l'adulto ad andare ad indagare ulteriormente, per cui magari dice sì, sono battute, la bambina le deve aver imparate da qualcun altro e tutto finisce lì. Quindi io non ho risposte da dare alle persone che mi chiedono come si fa a individuare o a capire se un bambino sta vivendo situazioni di abuso. Allora entriamo dentro veramente nello specifico. Come dicevo prima, l'abuso sessuale è un'esperienza che crea dei danni abbastanza gravi al minore, sia sul piano personale che sul piano relazionale e certamente sul piano sessuale. Quindi questa è un'esperienza che non tocca soltanto l'aspetto sessuale o la sfera sessuale, ma coinvolge tutta la persona. E questo perché? Perché l'esperienza sessuale è un'esperienza che danneggia le fondamenta della struttura dell'esistere. E cosa intendo con questo? Diciamo così, la struttura dell'esistenza è quella struttura che mi appartiene perché sono al mondo. ed è con questa struttura che io agisco nel mondo, compio degli atti esistenziali e quindi io vivo. Tanto è vero che ci sono le persone che dicono io non vivo più. ma la persona esiste, no? Quindi posso esistere senza vivere. Ecco, l'esperienza sessuale di abuso va a danneggiare le fondamenta dell'esistere. E l'esistere è quell'esperienza che ha a che fare tra me e me, mentre il vivere è l'esperienza che ha a che fare tra me e il mondo. E quindi le mura di questa esistenza si sgretolano. Quello che va a peggiorare la situazione è che in qualsiasi situazione di abuso la paura gioca un ruolo molto importante. Ed è una paura terribile che va a insinuarsi in ogni cellula di quella persona che sta vivendo questa esistenza. e quindi è anche la paura che riesce a provocare, a frantumare la struttura dell'esistere. E questi frantumi hanno sempre il sapore della morte. E perché hanno il sapore della morte? Perché i vissuti di questa esperienza sono vissuti nel loro estremo. E cosa intendo? Intendo dire che le emozioni, i sentimenti, i pensieri sono vissuti al massimo della loro intensità. Dolorosa. Dolorosa. Superata questa barriera, allora entriamo nel campo della follia. Infatti ci sono situazioni di abuso in cui, siccome oltre all'abuso è una situazione familiare disastrosa, il minore è già sottoposto a tanta tensione. se a questa tensione, questa atmosfera angosciante, si aggiungono anche forme di abuso e ripetuto, lì veramente c'è la possibilità che il minore, che non è più in grado di gestire una situazione del genere, si dissocia. e quindi creiamo dei campi di carattere psicotico. E questo è anche, sì, giustamente come hai detto, però anche uno di quei casi abbastanza rari, in cui un minore tenta anche il suicidio, anche un bambino visualizza, il bambino sappiamo che non vive il suicidio, ma in alcuni rari casi, il bambino visualizza anche la possibilità di una fuga attraverso il suicidio. è una via l'uscita, è una forma estremamente depressiva. Ecco, allora dicevo che appunto questi frantumi hanno il sapore della morte e questa morte la vediamo nella relazione, quindi nella relazione tra la vittima e il suo carnefice, la relazione fra la vittima e anche il mondo intero, perché questo disagio poi si riflette sul rapporto sociale che il bambino ha col mondo. e quindi è una morte, come ricevo, della relazione, è una morte dei ruoli, perché nell'abuso c'è un grande disfacimento dei ruoli, no? A un certo punto non si capisce più, e qui parlo anche dell'incesto, a un certo punto non si capisce più se la persona che mi ha abusato è mio padre, se è il mio amante, se è il mio amico, se io sono la figlia, se sono la moglie, se è la mia madre, è mia madre o è in estranea, no? Quindi proprio i ruoli che identificano la relazione con l'altro, anche questi qui si distrutturano tutti. E in più c'è la morte della fiducia, la morte della fiducia in me stesso, in me stesso minore, e la morte della fiducia negli altri. Che è molto grave questo. Sì. Quindi come noi possiamo vedere, già da queste osservazioni, che i danni sono abbastanza gravi. Nel bambino, nel minore, quando si parla di danno alla sua persona, io parlo di una infanzia rubata. Parlo di una infanzia rubata, perché il bambino non vive più in un contesto che appartiene al suo mondo infantile. Questo assetto si distruttura completamente. Che cosa è che gli viene rubata? Gli viene rubata la fiducia. La fiducia è un elemento estremamente importante nella vita del bambino rispetto alle persone adulte. Perché il bambino è una persona che dipende dall'adulto. Il bambino per strutturarsi, per mettere insieme i suoi mattoncini, ha bisogno che sia l'adulto a guidarlo, l'adulto ad aiutarlo, l'adulto che aveva fiducia in lui. Quindi lui dipende totalmente dall'altro, perché non è autosufficiente. E se viene meno la fiducia, come faccio io a legarmi in un rapporto di dipendenza con chi mi ha fatto del male? Punto primo. Punto secondo, l'adulto è quello che dà i punti di riferimento al bambino. Allora se questo è l'adulto che è il mio nemico, come faccio a fidarmi dei punti di riferimento? Quali sono i punti di riferimento? Come riuscirò a riconoscerli? Quindi scompare la fiducia e purtroppo appare il tradimento. Il bambino si sente tradito e insieme con il tradimento muore l'innocenza e la purezza del bimbo. E qui non parlo in termini morali, ma parlo in termini psicologici. E cioè il bambino guarda il mondo con gli occhi della purezza e dell'innocenza. E anche in questi episodi qui, quando il bambino si avvicina a quello che sarà il suo carnefice, lui si avvicina al carnefice con gli occhi dell'innocenza. Ha delle aspettative che l'altro gli ha fatto credere, no? Perché purtroppo il carnefice è il re dell'ambiguità. E quindi quando si avvicina al suo carnefice con questa purezza, con questi occhi ignari, no? E invece viene tradito è come se la macchina, il fotogramma, si paralizzasse in quel momento lì, no? Perché guarda il mondo con stupore, non capisce più che cosa sta succedendo. D'altronde sappiamo che l'abusante fa proprio leva su questa ingenuità, su questa purezza, su questa visione, su queste attesi innocenti, sì, esatto. Quindi al posto della fiducia appare il tradimento. In più per il bambino, per il minore, questa situazione è una situazione che non gli appartiene. Perché la sfera sessuale non è una sfera che è pronta su un piano psichico e fisiologico ad un'esperienza di tipo sessuale. né che sia un abuso, né che sia una molestia. Per cui per il bambino diventa una cosa ingestibile. Perché sono vissuti che lui non conosce. In più, vivendo queste poi esperienze, si sente anche un bambino diverso. Perché si rende conto che sono diversi, anche se non capisce cosa sta succedendo? perché vede che sono cose che sono fatte di nascosto, sono segrete, sono fatte in posti particolari, vengono toccate zone del corpo che di solito non si toccano. E tutto questo qui gli dà l'idea che c'è qualcosa che non torna. È un gioco perverso. Come? È un gioco perverso, certo. E quindi capisce che non deve raccontare niente a nessuno. E anche se non si rende conto esattamente quello che sta succedendo, dall'altra parte, delle volte addirittura è il suo abusante che gli dice è meglio che tu non racconti niente a nessuno, questo è un segreto fra di noi, tu sei privilegiato, sei la privilegiata, e quindi riesce un po' ad occultare l'evento. Quando non minaccia. Quando addirittura non minaccia, sì. Quindi il bambino si sente anche diverso. Termina qui la prima parte della puntata avendo per argomento l'abuso sessuale, l'abuso sui minori. Sbagliata. Grazie a tutti.